Neanche 24 ore rinchiuso in un carcere texano, con l'accusa di guida in stato di alterazione psicofisica, poi subito rimesso in libertà dietro cauzione. Non un detenuto qualsiasi, ma Robert O'Neill, eroe americano o mitomane, è l'interrogativo, uno dei veterani più noti dei Navy SEALs, forza d'elite della marina militare statunitense, impiegata in guerre e missioni speciali top secret. Come la squadra 6, di cui O'Neill faceva parte, incaricata nel 2011 dall'allora presidente Barack Obama di fare irruzione nel compound di Abbottabad in Pakistan, dove fu scovato e ucciso Osama Bin Laden. Un blitz coperto dal massimo riservo, i 40 lunghissimi minuti di ansia e attesa dell'operazione in corso, ripresi nello storico scatto della Situation Room alla Casa Bianca, un codice del silenzio rotto qualche anno più tardi, proprio dal soldato O'Neill. Furono miei i tre colpi letali contro il capo di Al-Qaeda, affermazione mai confermata ma neanche smentita dalla Casa Bianca e dal Pentagono. Un eroe, si disse subito, un narcisista, replicarono i critici, a partire dai colleghi militari secondo cui mai si dovrebbero raccontare i particolari di una missione. Ma proprio questo ha fatto O'Neill, pubblicando addirittura un libro di memorie. Certo è, da allora non sono mancate manie da protagonismo e guai per O'Neill, dal rifiuto, in piena pandemia, di indossare una mascherina a bordo di un aereo dal quale fu cacciato all'arresto in Montana per guida in stato di ebrezza. Un ottimo incursore, si diceva di lui, in ambienti militari, finito forse, come accade a molti veterani di guerra, nei problemi della vita quotidiana.